Avete mai sciato sulla pista più romantica delle Dolomiti? Questa è la mia pista. Per tanti anni l'ha battuta mio padre, ora ci penso io. È una pista unica, 100% neve naturale. L'apriamo solo quando la natura lo consente. Ma questa non è solo una pista, è un viaggio. 12 chilometri di discesa, in mezzo alla natura dal Col Margherita a Falcade. Lasciatevi ispirare dal paesaggio. Se non siete innamorati, vi innamorerete. Perché noi in questa pista ci abbiamo messo il cuore. Grazie a tutti.